Signor Togazzi, le voglio visitare perché secondo me le analisi non vanno bene. Ma dottore, frega bene, sono tutte nella norma. Sì, ma io non mi fido tanto. Ma è stato lei a mandarmi in quel posto per le analisi? Ma vanno bene tutte, è impossibile. Ma mi vuol trovare qualche cosa che non va per forza? No, ma io sono sempre un po' sospettoso e voglio provare un altro posto. Anch'io sono sospettoso. Vedrà che ho ragione io. Dottore, non è che mi porti sfiga? Oh no, ma per la certezza che si lavora. Speriamo nella certezza, ma quando devo pagare ancora... Dottore, non c'è prezzo. Per la salute, sì, ma vedrà chi non è necessario. Sì, anche la mia banca sarà contenta. Ma in due saranno contenti. Dottore, stai messo la mia domanda. Grazie a tutti.